Oggi a super c'è Enrico Ruggeri! Poi con tutta la band, anche la band. Hai sentito cosa dicevo? Enrico! 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 Come dire... Buongiorno maestri, buona domenica anche a voi. Maestro Schiavone, ben arrivato. Allora caro Enrico, no, voleva essere un complimento, nel senso che carriere parallele, certo più qualitativa la tua, ci hanno unito, perché io mi ricordo facevo la radio quando tu facevi i primi 10. Io ho cominciato molto presto, quindi ho questa... È stata una fortuna nella vita. Sì, sì. Però a posteriori adesso tutti dicono, ah Ruggeri... Senti, va bene, allora noi siamo qui oggi a festeggiare te, il tuo successo, la tua tournée che ti ha portato addirittura anche in Corea, com'è andata? Sì, bene, bene. Ci siamo divertiti. Belli caldi i coreanni, no? Poi amano davvero noi italiani in una maniera particolare. Adesso Enrico Ruggeri ci fa ascoltare il suo nuovo single che si intitola Il momento della verità. Vai! Applausi Quando il treno parte e si allontana senza te E mischiano le carte, ma la carta tua non c'è Quando tutto il mondo si dimentica che tu scivoli nel fondo e non sai alzarti in più. Arriva il tuo momento della verità E non saranno gli altri a viverlo perché Misurerai le forze e il freddo che verrà Può sciogliarsi col caldo che c'è in te Quando sei per terra e la gente se ne va Dentro a questa guerra che non sente mai pietà Quando resti solo perché non le servi più E tutto prende il volo mentre stai volando giù Arriva il tuo momento della verità E il finale sarà quello che vorrai Durante il viaggio tanta gente sparirà Ma torneranno quando vincerai Tu lo sai che le cose di colpo cambiano Ma la forza che cerchi la tieni in te Adesso devi dimostrare chi sarai Se c'è il futuro tu lo prenderai Tu del tuo mare Il momento della verità, ed il finale sarà quello che vorrai. In questa vita ognuno prende ciò che dà, e correre e partecipare. Durante il viaggio tanta gente sparirà, ma torneranno quando vincerai. Assolutamente dal vivo, non l'avevo precisato!